Devo cominciare da un lato diverso da quello usato per solito, perché devo spiegare perché la prima copertina è fatta in questo modo. Nel senso che tutti i presenti che hanno memoria di precedenti corsi avranno riscontrato che è stato abbandonato completamente quella visivo tra il realistico e lo stilizzato. Sono termini frettolosi ed impropri, ma è tale la cultura della maggioranza dei presenti in questo senso che capiranno perfettamente cosa intendo dire. Quest'anno invece per 25 copertine ci sarà prevalente il simbolico, come si vede in questa. Non c'è un vero ragazzino, non ci sono vere signori che sgridano, non c'è un muro ma c'è una calligrafia del muro e questo perché, sentendo che era un corso speciale, che era un'annata speciale, mi sono deciso, anche perché pensavo di non poter avere altre opportunità in questo senso, a rendere un omaggio al più grande copertinista italiano del Novecento, è Fulvio Bianconi della Garzanti. Io sto guardando volta per volta a Bianconi e mi congederò dai presenti con queste copertine perché mi è venuto in mente che bisognava far lezioni sulle copertine. L'unico modo è farla direttamente, cioè mostrare gli stilemi del miglior copertinismo italiano che, a mio avviso, ma sto per cominciare una lezione, tutta sul nazionalismo italiano e quindi c'è un preludio nazionalista perché questa dimensione del simbolico la prossima volta sarà ancora più accentuata perché, avendole io già consegnate tutte, so per che strada andiamo. È anche abbastanza importante che il simbolico venga proposto in una assise come questa perché sta prevellendo un neofigurativismo prevalentemente di tipo fotografico che mi sembra una arretratezza nei confronti della grandissima tradizione copertinista italiana. Rinuncio a leggere perché credo che sia un ripasso per quello che sto per dire e per quello che riguarda invece la bibliografia mi sentirete alludere continuamente alla bibliografia stessa mentre dico di cosa ci stiamo occupando. Allora andiamo a Firenze con la mente siamo all'inizio del Novecento e c'è ancora a Firenze uno spirito fortemente polemico fortemente negativo che ha due motivazioni non lontanissime. I fiorentini, secondo me, hanno avuto ragione hanno sofferto molto del trasporto della capitale da Firenze a Roma perché la capitale del regno era Firenze ma con la presa di Porta Pia va a Roma e si erano dati da fare con i mezzi più intelligenti essendo i dissendenti di una cultura che è terrificante nominare è quella di Dante è quella del Magnifico è quella dei grandi eruditi toscani e fiorentini e allora reagiscono come gli sembra di dover reagire cioè si riempiono di case editrici si mettono a far libri scrivono e poi scoprono che la cosa migliore da fare non è tanto far libri per gli adulti che quelli più o meno sono andati ma è far libri per i ragazzi a questo punto abbiamo il Paggi Libraio che fa Pinocchio nel 1881 e poi il Sor Bemporad io e Gianni ricordiamo di avere avuto un nipote o cugino nostro collega nell'acquisizione della nostra abilitazione all'insegnamento della filosofia dei licei e vedo che Gianni ricorda bene chi era e come era simpatico il Sor Bemporad ha accanto a sé un genio dell'editoria della scrittura del giornalismo del disegno dell'iconografia è questo Bertelli che si chiama Vamba apriamo una piccolissima parentesi cos'è tutto questo chiamarsi con altri nomi non si poteva chiamare Lorenzini c'è bisogno che si chiami Collodi non si poteva chiamare Bertelli di chiamarsi Vamba a proposito chissà quanto fra i presenti fra i presenti sanno chi è Vamba allora tornate alle vostre affettuose letture trovate uno dei più bei libri che avete letto spero che l'abbiate letto ma se no siete dei privilegiati perché avete la fortuna di stare per leggerlo è Ivano di Walter Scott c'è un buffone esperto di cose politiche attento alle regalità simpatico e colto che si chiama Vamba poco più in là uno scrittore a me carissimo perché è l'autore di Capitan Fanfare si chiama Iambo solo per provocare e Novelli Novelli vuole chiamarsi Iambo perché aveva scoperto che c'era un re nero più o meno vicino al Congo si chiamava Iambo Iambo Vamba Collodi e via discorrendo se non vi siete mai chiesti perché si chiamavano così ve lo butto lì io era un omaggio al nostro risorgimento dove chiamarsi con pseudonimo voleva dire riuscire a scappare e pertanto il nobilissimo il grandissimo Mazzini si chiamava Fantasio che lui nascosto dietro un rivestimento che nel caso per esempio di Vamba è anche però un programma ideologico perché Vamba farà una cosa che nel mondo non ha fatto nessun altro e lo farà con successo con dedizione morendo appena nel 1920 a 60 anni non riuscirà a dare il giusto segno a questa sua creazione perché fa un partito politico per bambini si chiama la Confederazione del Girotondo ha sede ovviamente a Firenze e alle Casine nell'ultima domenica di maggio stabilisse la radunata nazionale gli iscritti hanno dei nomi di iscritti ahimè non è per l'attuale femminismo piacevole sentire come si chiamano le iscritte che si chiamano mezze signorine mentre invece i maschi si chiamano grilli ci saranno cellule segrete quella di Tereste eretta da Ida Finzi che firma le sue opere anche lei con uno pseudonimo quello di Ede e farà il contraltare al cuore questo partito politico ha delle caratteristiche molto precise non da retta interamente al ideologo principale che è un sacerdote un coltor colopio dantista come non ce n'è il quale di nome faceva Ermenegildo Pistelli ma che lui aveva ovviamente un soprannome si chiamava Omero Redi Omero come Omero Redi è l'autore del bacco in Toscana perché gli perceva trincare a un certo punto della sua vita molto in anticipo su tanti milioni di italiani osò dichiarare non ho bisogno di mettermi la camicia nera ce l'ho già mostrando la sua tonica di sacerdote era però l'ala estremista del giornalino della Domenica perché l'ala vicina a Bertelli era potentemente nazionalista ma anche perché Bertelli morendo nel 20 non vede la marcia su Roma non è in quella deriva una cosa però è piuttosto interessante porta poco prima di morire già gravemente malato il saluto dei grilli e delle mezze signorine ad annunzio nella leggenza del Carnaro c'è una cosa che segnalo come capriccio bibliografico a partire dalla conferenza terrificante negativissima di Parigi per le sorti italiane c'è uno da odiare il presidente americano che loro insultano in tutti i modi possibili l'ultimo libro di Sigmund Freud scritto in esilio non stampato perché a Londra non aveva più amici salvo l'adorante figlia Anna è legato alla possibile pazzia di questo presidente americano Woodrow Wilson come qui davanti sento dotamente suggerire e si chiama il caso Wilson questo per dire che non avevano tutti i torti gli intransigenti grilli e le intransigenti mezze signorine e adesso diamo la parola a Vamba che si nasconde dietro l'autorevole nome di Giannino Stoppani faremo una cosa un po' particolare leggeremo un sostanzioso inizio e poi daremo un contraltare faremo sentire che cosa c'era in certo senso dietro perché le cose da disvelare sono ancora da disvelare devo dire con commozione che questa è la prima edizione condedica di Vamba a un cugino questo cugino aveva avuto figli e nipoti e uno di questi poveretto era il superiore di mio fratello mio fratello ispettore alla Palmolive e lui era per dir grazie a sua il direttore dell'ufficio vendite quindi doveva sorvegliare mio fratello che sarà andato questo signore chiamava Arnone il dottor Arnone direttamente in paradiso perché avendo sorvegliato le vendite di mio fratello gli dichiarava di essere a Trieste quando vendeva a Palermo e infatti c'è scritto al mio vecchio amico Enzo Arnone ricordo l'infanzia di Vamba Firenze 16-12-12 e cominciamo diamo la parola a Giannino Stoppani detto Gian Burrasca ecco fatto ho voluto ricopiare qui in questo mio giornalino il foglietto del calendario d'oggi che segna l'entrata delle truppe italiane in Roma e che anche il giorno che sono nato io infatti è il 20 settembre la presa di Roma come ci ho scritto sotto perché gli amici che vengono in casa si ricordino di farmi il regalo infatti c'è scritto mercoledì 20 settembre 1870 entrata delle truppe italiane in Roma 1897 nascita di Giannino molto sottolineato ecco intanto la nota dei regali avuti finora uno una bella pistola da tirare al bersaglio che mi ha dato il babbo due un vestito a quadrettini che mi ha dato mia sorella Ada ma di questo non me ne importa nulla perché non è un balocco tre una stupenda canna da pescare con la lenza e tutto l'occorrente che si smonta e diventa un bastone che mi ha dato mia sorella Virginia e questo è il regalo che mi ci voleva perché io vado a matto per la pesca quattro un astuccio con tutto l'occorrente per scrivere e con un magnifico lapis rosso e blu regalatomi da mia sorella Luisa quinto questo giornalino che mi ha regalato la mamma e che è il migliore di tutti ah sì la mia buona mamma me ne ha fatto una proprio bella dandomi questo giornalino perché ci scrive i miei pensieri è quello che mi succede che bel libro con la regalatura di tela verde tutte le pagine bianche che non so davvero come farò riempire ed era tanto che mi struggevo di avere un giornalino mio dove scriverci le mie memorie come quello che hanno detto le mie sorelle Ada Luisa e Virginia che tutte le sere prima di andare a letto con i capelli sulle spalle mezzo spogliate stanno a scrivere delle ore intere non so davvero dove trovino tante cose da scrivere queste ragazze io invece non so più che cosa dire e allora come farò riempire tutte le pagine bianche mio caro giornalino mi aiuterò con la mia facilità di disegnare e farò qui il mio ritratto come sono ora all'età di nove anni infiniti però in un giornalino bello come questo bisognerebbe metterci dei pensieri delle riflessioni mi viene un'idea e se ricopiassi qui un bel po' del giornalino di Ada che giusto giusto è fuori insieme alla mamma a fare delle visite ecco qui sono andato in camera di Ada ho aperto la cassetta della sua scrivania ho preso il suo giornalino di memorie e ora posso ricopiare in pace due punti inizio della ricopiatura oh quel vecchiaccio del capitani se non tornasse più ed invece è venuto anche stasera è impossibile non mi piace non mi piace non mi piacerà mai 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 la mamma ha detto che è molto ricco e che se mi chiedesse in moglie dovrei sposarlo non è una crudeltà questa povero cuore mio perché ti mettono a tali torture egli ha certe mani grandi e rosse e col babbo non sa parlare d'altro che di vino di olio di campi di contadini e di bestie e se lo avessi veduto almeno una volta vestito a modo oh se questa storia finisse se non tornasse più mi metterei l'anima in pace ieri sera mentre la accompagnavo a luscio ed eravamo soli nella stanza d'ingresso voleva baciarmi la mano ma io fui pronto a scappare e rimase con un palmo di naso ah no io amo il mio caro Alberto De Rensis che peccato che Alberto non sia altro che è un misero impiegattuccio mi fa continuamente delle senate e io non ne posso più che delusione che delusione è la vita mi sento proprio infelice e ora basta perché ho impito due pagine ti riappro prima di andare a letto giornalino mio perché stasera mi è successo un affare serio verso le otto come al solito è venuto il signor Adolfo Capitani è un coso vecchio brutto grasso rosso grosso le mie sorelle hanno proprio ragione di canzonarlo dunque io ero lì in salotto col mio giornalino in mano quando a un tratto lui mi dice con quella sua vociaccia da gatto scorticato cosa legge di bello il nostro Giannino io naturalmente gli ho dato subito il mio libro di memorie ed egli si è messo a leggerlo forte davanti a tutti da principio la mamma e le mie sorelle ridevano come matta ma appena ho cominciato a leggere il pezzo che ho copiato dal giornalino di Ada questa si è messa a urlare e faceva di tutto per strapparglielo di mano ma lui duro ha voluto arrivare fino in fondo e poi serio serio mi ha detto perché hai scritto tutte queste sciocchezze io gli ho risposto che non potevano essere sciocchezze perché l'ha scritto nel suo libro di memoria Ada che è la mia sorella maggiore e perciò ha più giudizio di me e sa quello che dice appena detto questo il signor Capitani si è alzato serio serio ha preso il cappello e se ne è andato via senza salutare nessuno bella educazione e allora la mamma invece di pegliarsela con lui se l'è presa con me gridando minacciando quella stupida di Ada si è messa a piangere come una fontana andate a far del bene le sorelle maggiori basta sarà meglio andare a letto ma intanto sono contento perché ho potuto empire tre pagine zeppe del mio caro giornalino 21 settembre sono proprio nato disgraziato in casa non mi possono più soffrire e tutti non fanno altro che dire che per colpa mia è andato all'aria un matrimonio che per i tempi che corrono era una gran fortuna e che un marito come il signor Capitani con 20.000 lire di rendita non si trova tutti i giorni e che Ada sarà condannata a restare zittella per tutta la vita come la zia Bettina e via e dargli una quantità di storie che non finiscono mai io vorrei sapere che gran male ho fatto alla fine copiare un pensiero dallo scartofaccio di mia sorella che cosa sarà mai un'ora in avanti bene o male giuro che il giornalino lo scriverò tutto per me perché queste esempiaggine delle mie sorelle poi mi danno ai nervi dopo il fatto di ieri sera pareva che stamani fosse successa a casa una grande disgrazia era già suonato da un bel pesto a mezzogiorno non c'era nemmeno l'idea di mettersi a tavola a fare colazione come gli altri giorni io non ne potevo più dalla fame e allora zitto zitto sono andato in sala da pranzo ho preso dalla credenza tre panini un bel grappolone d'uva un'infinità di fichi dotati e con la lenza sotto il braccio mi sono avviato verso il fiume per mangiare in pace dopo mi sono messo a pescare e non pensavo che ad acchiappare i pestiolini quando un tratto ho sentito dare una strappone alla canna che reggeva la mano e forse mi sarò protegto un po' troppo avanti perché giù pumfite sono calato nell'acqua pare incredibile ma in quel momento non ho potuto fare a meno di pensare tra me ecco i miei genitori e le mie sorelle saranno contenti di non avermi più tra i piedi ora non diranno più che sono la rovina della casa non mi chiameranno più Giamburrasca di soprannone che mi fa tanta rabbia affondavo giù nell'acqua e non capivo più nulla quando mi sono sentito tirare su due braccia ad acciaio ho respirato a piene polmoni l'aria fresca di settembre e subito sentendomi meglio ho domandato al barcaiolo che mi teneva in collo se aveva pensato di mettere in salvo anche la mia povera lenza non so perché la mia mamma abbia pianto tanto quando Gigi mi era portato a casa fra dicio mezzo io stavo benissimo e glielo dicevo ma le mie parole erano dette al vento perché le lacrime della mamma pareva che non finissero mai con me ero contento di essere cascato nel fiume e di aver corso di affogare se no io non avrei avuto tanti complimenti né tutte quelle moine e purtroppo lo lasciamo qui e facciamo una esplorazione che Vamba non gradirebbe questo modo di fare sbrigativo e spesso canagliesco buffonesco e qualche volta cialtronesco dominerà l'intera generazione a cui appartiene non solo dominerà quella generazione ma andrà molto avanti arriverà fino a Salò fino all'inno delle camicie nere milanesi che poi diventerà l'inno di tutti i repubblichini le donne non ci vogliono più bene le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera legarsi ad un fascista non conviene è meglio amare un vigliacco o un traditore sono i nipotini quando non i figli di Giannino Stoppani perché adesso do invece la parola a uno di loro che diventò famosissimo e mi è anche carissimo perché l'ho copiato tutte le volte che ho potuto perché lo adoravo è Mino Macari incisore acquafortista pittore narratore politologo umorista la poesia che firma e sembra tratta dal giornalino ha un nome ha una denominazione inequivocabile si chiama La Marcia su Roma di Mino Macari Quando l'uva bollì nei tini e scarlatti si fecero i pampani noi squadristi di Mussolini ci riunimmo in neri manipoli Quando l'uva bollì nei tini e le foglie si fecero pallide noi squadristi di Mussolini i guerriardetti si sventolarano Fu l'autunno all'uso italiano e si die principio allo sgombero Con fracasso di bombe a mano la baracca si fece in truccioli Quando l'uva bollì nei tini e le nuvole si gonfiarono noi squadristi di Mussolini le fidanzate si lasciò a piangere Alla storia esterrefatta con violenza voltammo la pagina e con aria assai soddisfatta cominciamo il nostro capitolo Quando l'uva bollì nei tini e fino a Roma ci portò l'impeto noi squadristi di Mussolini si aprì la strada dei nuovi secoli Cosa lega questa composizione poetica del giovane Mino Maccari al diario di Giannino tutto la lingua la cadenza la dimensione sbarazzina l'idea di insultare facilmente l'idea di rompere un ordinamento bisogna fare molta attenzione che è quello essenzialmente piccolo borghese non ci sono qui figure di altolocati aristocratici non ci sono grandi capitani di induzia è una piccola borghesia continuamente triturata insultata derisa perché dovrebbe fare quello che a lei chiede Mino Maccari allora non siamo come al solito di fronte a un libro per l'infanzia a meno che non si pensi a un certo tipo di libri per l'infanzia perché se a parer mio Maccari sembra Giannino Stoppani e a sua volta Giannino Stoppani sembra Maccari ci deve essere qualche cosa che è bene assolutamente sapere prima che egheglianamente ritorni a farsi vedere senza che noi lo riconosciamo perché Giannino Stoppani non è che vada a finire direttamente nel camion 18 BL dove c'è Mino Maccari però secondo me ha alcune possibilità vediamo una possibilità è terribile è tremenda ma non stiamo parlando di cosucce parliamo del passato tremebondo degli italiani che in tanti si adoperno perché venga cancellato dimenticato è la storia l'avversario numero uno dei riformatori scolastici e infatti basta vedere i quiz televisivi mi dica la data dell'arrivo di Cesare sul Rubicone 1917 bene bravo va avanti così anzi buttati nel Rubicone quando è in piena però allora tornando al rapporto Maccari e Giannino noi scopriamo alcune cose che sono interessantissime c'è un antiborghese antagonismo che non dispiace c'è una dimensione di ricerca della verità all'interno di un contesto molto bugiardo che non dispiace poi c'è però questo gusto della prepotenza che ci fa pensare a un episodio storico che fa tremare il partito politico che si riuniva a maggio aveva fra i suoi effettivi quindi un grillo a tutti gli effetti un ragazzino che era talmente bello che tutti gli davano 4 o 5 anni perché era alto ben fatto ben strutturato con uno splendido viso se ne dico il cognome evidenzio subito la necessità di sapere o no la storia il grillo che andava a trovare Vamba si chiamava Roberto Sarfatti e per alcuni ho visto alcune più che alcune ho visto che già significa la sua mamma Margherita era una coltissima ebrea e questo bisogna storinearlo perché il 38 non è lontano e vediamo anche le celebrazioni relative al portico d'Ottavia e quindi non bisogna dimenticare Margherita ha questo figlio che adora il figlio appena scoppia la guerra si traveste un po' con delle cose che lo fanno sembrare ancora più alto viene a Bologna nella via che inevitabilmente si chiama dei bersaglieri ma non si chiamava così e lì dai servi congiunge strada maggiore con San Petronio vecchio e dice vengo ad arruolarmi voglio appartenere al corpo degli erditi voglio andare in guerra a combattere il colonnello gli dice no Roberto ti ho riconosciuto sono un amico della tua mamma e del tuo babbo adesso ti porto a casa per un orecchio Giannino non ce l'ha fatto l'anno dopo ce l'ha fatto viene arruolato parte con gli arditi una notte di plenilugno si mette in bocca la baionetta tre bombe a mano in mano e viene falciato da una mitragliatrice austriaca Margherita cambierà da quel momento dice noi siamo sempre in due accanto a me c'è lui l'ombra e l'ombra sarà ricordato continuamente specialmente quando insieme al suo amante Benito Mussolini convocherà per il marzo del 19 la prima riunione delle camicie nere in piazza Sansepolcro così partendo dal disobbediente Giannino dalle incongruenze anti-borghese di Giannino Stoppani si va verso la poesia graffiante aggressiva di Mino Maccari ma si deve ritrovare quello che per vari anni sarà l'ombra nel 38 Margherita scapperà nell'America Latina per tornare dopo l'esilio e scrivere l'ultimo suo libro Acqua Passata è una figura da guardare con molta attenzione perché nei grandi tumulti della storia sono queste figure che si dimenticano sarà la prima biografa del suo amante e il primo capitolo sembra proprio un poco gianninesco siamo in una stalla di Romagna e cosa si legge i miserabili e c'è un undicenne con gli occhi famosi occhi sguardo tremendo che guarda nel buio mi piacerebbe dare un tema fatto così Mussolini diventerà Mussolini per la lettura dei miserabili esattamente come dice lei all'inizio della biografia Dux com'è che il libertario Zan Valzan il salvatore dei poveri il benefattore di Cosette può essere un modello del fascismo e attenzione perché questo è un corso che dura fino alla fine di maggio è un corso di pedagogia della lettura e un invito a leggere i libri in un certo modo chi ha detto che lui come me si innamora di Zan Valzan e se si fosse legato a Zaver i comunisti del numero 15 in via Orfeo a quelli come mio padre che invece era un fascista dicevano stai buono Zaver si prende dai libri e pertanto è importantissima la pedagogia della lettura ciò che è bene prendere ciò che è inevitabile prendere ora guardando bene a questo mondo guardando bene a questo mondo noi abbiamo altre prove di un antagonismo antiborghese che è bene chiamare in causa abbiamo conosciuto io e Anna l'autore perché abbiamo cominciato a fare questi studi più di 50 anni fa l'autore Sergio Toffano sto è quello del signor Buonaventura e cosa fa? anche lui di leggia anche lui era una firma del giornalino della Domenica anche lui lavorava per Vamba e Vamba infatti è l'editor di questo bellissimo volume che ha anche le meravigliose illustrazioni del grande Sergio Toffano che non contento di essere un disegnatore e un autore di testi così straordinario è anche quello stupendo attore e maestro di attori ho visitato la mostra che ho fatto io su di lui a Firenze con un'allieva Monica Vitti che ha pianto per due ore lo ricordava come era ad insegnare a portere la parola a dire la scansione e infatti è antiborghese e nemica dell'ovvio e quasi squadristica anche questa poesia che adimira una delle istituzioni amate secondo me giustamente amate ma io ho avuto come preside e amico Piero Bertolini che era il massimo studioso e partecipe ideologo di questa istituzione i giovani esploratori ma evidentemente in questa zona i giovani esploratori non piacevano molti dei presenti ce ne è pochi di una certa età della mia credo nessuno o forse qualcuno ricorderete che il grande il grande scrittore teatrante critico filosofo George Bernard Shaw che aveva un nobile motivo per trattarli male gli avevano fischiato una commedia e allora diede questa definizione bambini vestiti da cretini guidati da cretini vestiti da bambini mi schiero contro George Bernard Shaw io invece l'ho appraudito ho prestato moltissimo ma le pene del giovane esploratore che non sa cosa esplorare sono un nonsense molto Giannino Stoppani molto legato ai luoghi ai tempi alle memorie vorrei di Pippo Potamo giovane esploratore le pene sue di cuore signori raccontare da un pezzo lo perseguita la smagna esploratrice però non sa infelice che diavolo esplorare se andasse al polo immagina c'è subito un impaccio perché c'è troppo ghiaccio da quelle parti là il ghiaccio è buono è utile se serve a far ghiacciate ma in ghiaccio lastricate sono filestrade ai poli andare al polo caspita in queste condizioni per chi soffre i geloni igienico non è la letteria moltissimo vedere i pelli rosse se un rischio non ci fosse tra quelle rie tribù le quali hanno l'abitudine piuttosto impertinente di scottenare la gente che possono agguandare o pippo pippo potamo con tanto ricciutello finir senza un capello dalla service in giù poi c'è il brasile fertile il cile le guiane dove ci sono banane che sono grandi così e del caffè gli alberi prodigi del progresso producono l'espresso da bere su due piedi ma al bene di quei popoli la febbre gialla attenta per cui polenta si muore lì per lì c'è Cuba bella celebre la perle dell'antille dove le perle a mille si pescano nel mar i papagali parlano spagnolo o portoghese andare a quel paese o pippo che piacere mandarci dirlo è facile però da dire al fare ci sta in mezzo il mare e sta da attraversare e se il vapore naufraga se picchia di uno scoglio se un tonno o un capidoglio lo fanno rovesciare ci sono cantucci in Africa ancora da esplorare e più in particolare vediamo cosa c'è il nilo in sulle origini ma che nilo d'Egitto di cocodrilli fitto che è meglio non toccare il deserto sarico ha invece troppa sabbia che fa dispetto e rabbia quando negli occhi va nelle foreste verdini peggio che andare di notte ci sono pitoni a frotte e la mosca a tessè dun subito addormentasi da tal mosca e punto e sol poiché defunto arrivasi ad estare contossi a forza l'Africa sarà un bel continente ma par poco prudente andarci a passeggiare c'è l'Asia con altissime inesplorate vette si sale non si smette per anni di salire ma monti di tal genere come si fa a scalare senza funicolare per giungere lassù resta la Cina in seguito la patria dei cinesi simpatici cortesi ma gialli di coloro e sanno a pranzo un ospite gli danno da mangiare frittura di zanzare e cimici in salmì non sono consigliabili neppure le indie nere dove ci sono pantere che han fame tutto il dì rimane l'oceania terra che incanta gli occhi e dove l'oro agnocchi si trova sparso al suolo ma in moda fra quei popoli è l'antropofagia pensate che allegria finire in fricandò per questo non esagero par così grande il mondo ma non c'è un buco in fondo dove si possa andare allora Pippo Potamo pensa ripensa e pensa e intanto la dispensa decide di esplorare qui scopre premio al nobile il suo genio d'avventure di quelle confetture che valgono un Perù allora il giornalino all'interno del giornalino appuntate un altro giornalino il giornalino di Gian Burrasca Omero Redi e l'idea di cambiare la tonaca con la famosa camicia che cos'è tutta questa dimensione così poco studiata così poco ricordata così poco messa in evidenza quando se ne avrebbe tanto bisogno di scoprirla di studiarla di fare delle somiglianze possibili degli scavi dei riconoscimenti è qualche cosa che ci riguarda tutti anche adesso tant'è vero che c'è un'altra poesia secondo me è fra le più belle poesie italiane del novecento anche se l'ha scritta uno che era più pittore che scrittore o poeta Ardengo Soffici e come scrittore poeta ha ricordato pochissimo mentre ha un libro che si chiama Lemmonio Borreo dove tutto quello che sto dicendo c'è e c'è perché aveva capito prima soldato guvaloroso della prima guerra mondiale pittore secondo me straordinario con questa poesia che ha un titolo brevissimo si chiama Via spiega la parte più interna più viscerale più profonda di questo mondo un mondo che crollerà fra un po' sarà uno dei centri più terrificanti di lotta fare camice nere e i comunisti e qui dove il giovane fascista pluridecorato Giovanni Berta si vede tagliare le mani e buttare in Arno la spedizione squadristica per vendicarlo resterà famosa lo ritrovate in uno dei libri più belli del novecento Vasco Pratolini lo Sialo non si chiama Berta ma si chiama Tarbet su uno dei camion 18 BL che andarono a vendicare questo caduto pluridecorato di guerra c'era mio padre quindi è una cosa che mi tocca da vicino invece via di Ardengo Soffici è una deliziosa poesia dove tutti questi spazi questi momenti con lo struttimento finale con quel colpo che rialza le sorti lirico familistiche dell'insieme una poesia che mostra che forse ci si poteva fermare prima che forse queste cose potevano essere scritte riscritte anche a vantaggio di che cosa? di una modernizzazione di una borghesia dalle ali tarpate ha ragione Giannino a dirne male ha ragione a rovinargli semplicemente tutte le cose che stanno combinando perché in realtà come vedremo è molto molto grave che un paese si presenti in queste condizioni all'appuntamento con il Novecento all'appuntamento con le grandi catastrofi con i grandi mutamenti e lui una cosa molto buona ce l'ha è questa dimensione dello scuotimento notate come nella poesia di Ardengo Soffici intitolata Via ci sia un prosieguo lineare con un brusco contrattacco della parte più internamente sofferta e ribelle di Soffici quindi Toscana quindi Giannino quindi Bemporad quindi tutta questa dimensione che dovremmo tantissimo studiare come remedium possibile contro qualcosa che abbiamo magari in atto sotto gli occhi Ardengo Soffici Via Palazzeschi eravamo tre noi due e l'amica ironia a braccetto per quella via così nostra alle 23 il nome chi lo ricorda dalle parti di San Gervasio Silvio Pellico Metastasio c'era sull'angolo in blu mi ricordo però del resto l'ombra d'oro sulle facciate qualche raggio nelle vetrate agiatezza e onorabilità tutto nuovo le lastre azzurre del marciapiede innaffiato le persiani verdi il selciato i lampioni color caffè giardinetti disinfettati canarini ai secondi piani drogheri barbieri ortolani un signore che guardava in su un altro seduto al balcone calvo che leggeva il giornale tra i gerani del davanzale una bambinaia col bebè un fiacchere fermo a una porta col fiaccheraio assopito un cambarbone fiorito di seta che ci annusò un sottotenente lucente bello sulla bicicletta monocolo sigaretta due preti una vecchia un lacchè che bella vita dicesti ammogliati una decorazione qui tra queste brave persone i modelli della città che bella vita fratello e io sarei stato d'accordo ma un organetto un po' sordo si mise a cantare oi marì e fumo quattro oramai a braccetto per quella via peccato la malinconia si era invitata da sé bellissima quest'idea che la malinconia arriva non invitata è qualche cosa di straordinario di incredibile e vediamo di accostare un'ultimissima possibilità un romanzo in versi scritto da Vamba che dura dall'inizio alla fine verseggiando e con le illustrazioni mirabili dell'autore vi dirò la novella dello stento che dura tanto tempo ed ho finito una più lunga e io come l'invento e tu Tonino levati quel dito dal naso oh guarda questo è un argomento buono per te che sei poco pulito vi dirò dunque quel che accade a Maso per ficarsi le dita dentro il naso Maso è quell'ortolano lungo e sottile che vocia sempre oronne o le patate i ragazzi lo chiamano campanile e infatti oltre alle membra smisurate che il fanno quasi a un campanile simile ha lassù due narici spalancate che paiono con rispetto della chiesa due campane che suonino a distesa quel nasazzo schiacciato aperto ai venti che desta in tutto il riso e lo stupore quel nasazzo e si pieno di avvenimenti che a narrarli non passa un paio d'ore pur se starete buoni esiti attenti è questo ambisco solo unico onore che con un naso non si hanno busti al pincio io canterò quel naso ed incomincio un naso non si hanno busti al pincio con una dimensione bambina non so se vi è capitato la fortuna se no la segnalo qui è recentissimo è un copolavoro assoluto è appena apparso in libreria porta la data del 17 ma c'era all'inizio del 18 si chiama Repubblica Luminosa L'autore è un giovane scrittore spagnolo che adesso si chiama Andres Barba e racconta questa terrificante storia cosa succederebbe se 33 bambini improvvisamente da un bosco vicino volessero essere sul serio presi come meriterebbero di essere presi in quanto bambini invece che distrutti affamati e alla fine allagati e fatti morire sotto gli spazi più bui della città con il passare degli anni il ricordo è diventato impreciso su alcuni dettagli ma in alcuni casi mi sembra di vedere oggi con maggiore nitidezza una specie di figura qualcosa di simile a un rettangolo che si epriva come una porta una forma semplice non molto diversa da quella che Rochko ripeteva all'infinito nelle sue composizioni e che sembrava ideata deliberatamente può anche essere che tutto dipendesse dalla conformazione della volta sottellana ma stento a crederci quella sala pentagonale ricoperta di specchi e cristalli e frammenti di latta e di occhiali era ciò che di più simile a un corpo si possa immaginare all'interno di quel corpo nel suo seno vivevano i 32 bambini l'idea era talmente chiara che a volte mi dava la sensazione che mi bruciasse nella disposizione nell'altezza di quel luogo rispondevano a un bisogno pratico in effetti vi confluivano molte tubature del gas e uno dei principali generatori della zona nord ma questo non spiegava affatto la sua forma pentagonale né tantomeno le numerose nicchie sulle pareti per anni si è elucubrato se quella sala fosse stata un vecchio deposito costruito per conservare i materiali destinati alla realizzazione della rete fognaria cosa che avrebbe almeno spiegato la presenza delle nicchie scaffali e noi eravamo rimasti talmente affascinati dai riflessi che neanche le avevamo viste le nicchie erano sono perché stanno ancora lì più di una trentina e ognuna era alta circa un metro e mezzo per un metro di profondità i bambini le avevano utilizzate per dormirci forse disposti in modo casuale quella strana repubblica minuziosa formavano tutti questi giacigli nel documentario di Valerio Danas si può vedere un'immagine del posto ma risale a diverso tempo dopo i fatti ovviamente non vi è più traccia di vita dei 32 un'immagine ingannevole come lo sono le immagini delle case vuote sono più attendibili i commenti dei testimoni alcuni descrivono il luogo come un alveare diseguale altri più perspicati lo paragonano ai loculi di un cimitero è vero che l'aspetto eterno faceva pensare a una colombaia ma anche alle cucette ai cassettoni dei tipografi dove osservano i caratteri da stampa persino l'impressione che in ogni nicchia dormisse un solo bambino era ingannevole il vestiario era mescolato alla rinfusa i capi sembravano appartenere a bambini diversi alcuni delle nicchie erano alquanto difficili da raggiungere e non riesco a immaginare come facessero a salirvi senza precipitare giù in tutte c'erano oggetti dei più disparati i loro piccoli tesori tappi sassolini dolcetti bottoni fibbie ricordo poco delle cose che vidi nella memoria formano un groviglio ho soltanto la certezza che quelle cose stavano lì che erano state messe da parte poco alla volta ed erano pervase dai desideri dei bambini i bambini mi dice che avevano smesso di usare ben presto il denaro il nostro denaro ma non di scambiarsi le cose piccoli oggetti favori forse quegli oggetti sparsi erano in realtà la loro moneta i bambini erano fuggiti con l'impresa dalla loro città che avevano abbandonato anche i loro soldi già se ne vanno via e cosa succede nel diario di Giannino Stoppani cosa succede nel giornalino succede che vede sempre gli adulti come questi bambini morti e negati dal lato peggiore che possano essere considerati quando a forza di non sopportarlo più finisse che lo mettono in collegio ci sono due personaggi che neanche Hugo neanche Eugenio hanno avuto il coraggio di raffigurare lui è un torpido spilungone lei un'avida nana che sfruttano la retta abbondante pagata dai genitori dando da mangiare ogni tipo di schifezze a questi ragazzini del collegio finché essendo lui curioso essendo lui sempre desideroso di sapere viene a scoprire che la minestra più amata è fatta con la rigovernatura dei piatti dei giorni precedenti e si fa un bel lavoro fatto così cioè lunedì martedì mercoledì giovedì si mette a bagno il piatto sporco con il ragù l'avanzo quello che c'è poi si fa bollire l'acqua sporca e gliela si ridà e si è ben contenti di fare questo perché si guadagna moltissimo e Gian Burrasca ascoltando non solo viene a sapere anche questo viene a sapere che sono degli spiritisti e questo è interessantissimo per un vero grande romanzo per i ragazzini di tutte le epoche perché senza lo spiritismo i due delinquenti affamatori mancherebbero di qualcosa di caratterizzante ma sentiamo cosa ne dice sul giornalino dunque a mezzogiorno in punto tutti i 26 convittori del collegio Pierpaoli erano come al solito sediti intorno alla tavola del refettorio in attesa del pranzo e qui mi ci vorrebbe la pena del Salgari oppure quella di Alessandro Manzoni per descrivere l'ansità di tutti i compagni della nostra società segreta mentre si aspettava che portassero la minestra a un tratto eccola i nostri colli si allungano i nostri occhi seguono con grande curiosità le doppiere e appena la minestra incomincia a riempire le scodelle tutte le bocche si arrotondano in un lungo di meraviglia e un mormorio generale si leva nel quale sono ripetute sempre queste parole ma le rossa la signora di Altrude che gira qua e là dietro le nostre sedie si ferma ed esclama sorridendo si capisce ci sono le barbabiette le rosse non vedete e la minestra di magro infatti questa volta è piena di piccole fette di barbe rosse testimoni muti e terribili per la nostra società segreta della ingegnosa nequizia del cuoco e ora che si fa dico piano al barosso ora si fa così mormora egli con gli occhi sfavillanti di sdegno e alzato si in piedi girando lo sguardo intorno ai compagni esclama con la sua voce energica ragazzi nessuno mangi questa minestra rossa essa è avvelenata a queste parole i collegiali lasciano cadere il cucchiaio sulla tavola fissano gli occhi in faccia a barosso esprimendo il massimo stupore la direttrice il cui volto è diventato anche più rosso della minestra accorre afferrato il barosso per un braccio gli grida con voce stridula che dici dico ripiglia il barosso che non sono le barbe che tingono di rosso la minestra ma è l'anilina che ci ho messo io la formazione fatta con tanta precisione e tanta fermezza dal coraggioso presidente della società uno per tutti e tutti per uno sconvolge addirittura la signora Geltrude che resta lì per qualche minuto confusa senza poter nulla rispondere ma infine la sua terribile esplode in questa frase piena di recondite minacce tu 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 ma sei pazzo no non sono pazzo ribatta il barosso e ripeto che questa minestra è rossa in causa dell'anilina che vi ho messo io mentre avrebbe tutte le ragioni diventa rossa di vergogna per il modo col quale è fatta questa bella frase detta con quell'accento meridionale così sonoro ha finito di sconvolgere la povera direttrice che non sapeva fra l'altro che ripetere tu tu proprio tu e infine scostando la sua sedia ha concluso in un sibile va giù in direzione bisogna che tutto sia spiegato e ha fatto un cenno al bidello che lo accompagnasse questa cena si è svolta così fulminamente che i convittori anche dopo l'uscita del barosso dal refettorio rimanevano lì ringrulliti sempre con gli occhi fissi sulla sedia rimasta vuota frattanto la direttrice aveva dato ordine di portare via la minestra rossa e di portare in tavola l'altra pietanza che era baccalà alesso sul quale i convittori si scaglierano così affamati che essa oppose in vano ai loro denti la più dura e stopposa resistenza io invece per quanto avessi non meno appetito degli altri speluzzicai la mia porzione di baccalà con fare impacciato e mi sentivo nell'anima lo sguardo fisso acuto della signora Geltrude che fin dal primo momento in cui si era alzata da sedere il barosso gettando l'allarme contro la minestra di magro non mi aveva mai levato gli occhi di dosso durante l'ora della ricreazione continuò la vigile sorveglianza della direttrice e non potrei parlare che di fuggita col Michelossi che si fa prudenza bisogna prima sentire il barosso ma il barosso non fu visto da nessuna parte in tutto il giorno la sera ricomparve a cena ma pareva un altro aveva gli occhi rossi infossati e fuggiva gli sguardi curiosi dai suoi compagni specialmente di noi della società segreta che è stato gli domandai piano zitto ma cos'hai se mi sei amico non parlarmi il suo fare era imbarazzato la sua voce malsicura che era dunque accaduto ecco la domanda che mi rivolgevo ieri senza trovarvi una riporta ieri sera appena i miei piccoli compagni di dormitorio si furono addormentati mi ficcai dentro il mio armadietto senza neppur pensare a scrivere queste pagine con i fatti della giornata per quanto fossero di grande importanza era il momento sia più importante il vedere quello che accadeva nella sala del defunto professor Pierpaolo Pierpaoli cercando di scoprire le batterie nemiche e per la verità la mia aspettazione non fu punto deluse appena dentro il mio osservatorio sentì la voce della signora Geltrude che diceva sei un perfetto imbecille capì che parlava con suo marito e difatti accostato l'occhio al forellino fatto nel ritratto del compianto fondatore di questo collegio ho visto giù nella sala i due coniuti direttori l'uno di fronte all'altro la direttrice con le mani sui fianchi col naso addirittura paonazzo gli occhi spavillanti il lettore gritto rigido in tutta la sua lunghezza nell'attitudine di un generale che si prepari a sostenere un assalto cosa abbiamo con il giornalino di Gian Burrasca abbiamo un testo estremamente sottovalutato della nostra letteratura senza aggettivi compare a puntate nel 1906 deride tutta una serie di istituzioni deride la famiglia deride i collegi deride la scuola deride i medici e gli avvocati mette alla berlina perfino gli oppositori quindi non lassi a nessuna speranza perché in questo momento c'è Giolitti al potere questa è l'età giolittiana ma l'avvocato Maralli che racconta un sacco di patacche è un socialista e quindi l'alternativa è pataccara come la dominante non c'è speranza per nessuno e il libro si chiude come se fosse un testo risorgimentale cioè con un addio verso nessuna direzione com'era la reazione possibile dell'infanzia che accorreva addirittura alle radunate sediziose dei degli affiliati alla confederazione del girotondo ma lasciatemi dire che questo che è un libro per l'infanzia si fa carico di tantissimi libri per l'infanzia che non sono stati ascoltati che mettevano in evidenza dei sintomi che i libri per adulti non mettevano in evidenza ce n'è una fortissima genealogia molti sono presenti in questo corso non risulta che sia mai stata ascoltata la denuncia di Mertwein in Tom Sawyer e a Berfin sono ragazzini sofferenti maltrattati avviati alla manzogna ridotti malissimo in molte situazioni della loro vita però per quanto Hemingway abbia detto più volte noi me compreso non abbiamo mai avuto niente di così grande di così bello di così straordinario come i due libri Tom e Huck magari questo emarginati ridotti ritagliati non letti tenuti da parte questo non letto ho fatto tre introduzioni differenti a tre edizioni diverse di questo libro ho denominato una illustra libreria con il nome dell'autore perché gli sono così legato perché mette in evidenza il ruolo di tantissima letteratura per l'infanzia sempre regolarmente inascoltata Oliver Twist hai voglia di denunciare botte quasi niente da mangiare senza famiglia di Ector Malou ce n'era per far abrividire tutti i pedagoghi del secondo impero e viene l'asiato lì dov'è ma anche altri differenti perché si può fare un salto arrivare fino a Salgari che potrebbe ed è la lettura di Giannino dei Giannini e tuttavia anche su di lui emarginazione e quant'altro abbiamo anche un apparato iconografico importantissimo perché tutto riferito a questo che era anche un mondo di figure vuole fare per i suoi bimbi ne aveva due la cronaca della settimana è un capolavoro perché è illustrato da Umberto Brunelleschi e da Filiberto Scarpelli abbiamo avuto la fortuna di parlare a lungo con Scarpelli il figlio che era il signore della rivista italiana c'era sempre scritto nelle riviste Age Scarpelli ed era una garanzia la cronaca della settimana teologia infantile come può essere che il Dio sia dappertutto chiede Carlo a Masin se noi non lo vediamo per niente io lo so gli risponde Masin candidamente gli è come il caffè latte anche lì non si vede lo zucchero ma che sovi sia dentro lo si crede perché c'è e in ogni gocciolo la lucro si sente per un bimbo che parla a un altro via par meglio di molti dotti in teologia igiene del giardino aggirandosi tra i piangusti sentieri Gina ha trovato ieri una povera bambola una bambola priva delle gambe gittata lì da una bimba ingrata volubile e cattiva e Gina che ha nell'anima una fiamma d'amore per ogni altrui dolore ha raccolto la vittima d'amor la fiamma bella splendeale fra le ciglie adottata per figlia l'infelice orfanella vuoi venire o mia bambola a spasso ella le dice e poiché l'infelice non ha gambe la tenera mammina tutta affetto la porta pian pianino su e giù per il giardino a spasso in un carretto e ogni tanto fermandosi la piglia tra le braccia e la maccata faccia bacia di celluloide Gina Gina che fai le ha detto lo ziobista oggi quando l'ha vista baciarla ah tu non sai e lo ziobista è medico e sa dov'era questa bambola tutta pesta tra la polvere e il sudice in quali mani è stata questa bambola pria d'essere gittata via forse di un'ammalata certo in essa si addensano ora i germi a milioni di tutte le infezioni i micrococchi i microbi e chi contro il consiglio dell'igiene or la tocca e vi accosta la bocca corre un serio periglio ma mentre Gina trepida sta lì a sentirlo zio ecco la mamma anch'io dice ho un consiglio igienico e qual rimedio invoco ad ogni germe cattivo è più certo è il più vivo disinfettante è il fuoco Gina la qui nell'anima è sempre acceso d'amore contro ogni altrui dolore e tutto esso purifica brava Gina è commossa alla stretta al seno bene saggia cosa l'igiene santa la croce rossa lo vi ho visto che è medico e sta tutto esclamato non avevo pensato all'igiene dell'anima certo ed è la più pura serba o Gina la fiamma che ti ha dato la mamma e non aver paura paura abbiamo noi il fuoco che brucia tutto cos'è che aveva contro Giolitti beh c'è un classico libro storico italiano Gaetano Salvemini il ministro della malovita gli fu posto anche un altro libro alternativo il ministro della buona vita Giolitti l'inizio poi ci sarà la guerra la prima guerra mondiale il fascismo la sconda la guerra civile che cosa c'è qui che ci fa riflettere all'interno di un corso che dura fino a maggio e che si vuole dedicato al viaggio il viaggio di Giannino perché l'abbiamo perso è esattamente come le confidenze che mi faceva per lettera a voce Federico Fellini a proposito della fine dei vitelloni Moraldo va via non lo vedremo più non ricomparirà malgrado si è sempre stato lì accanto a Federico o dentro Federico anche Giannino va via Pinocchio dice guarda come ero quando ero Burattino è un modo per andare via anche quello ovviamente transumanare dentro una natura che prima non hai onorato di particolare cura sembra tutti mascalzoni tutti ladruncoli sono tutti dannati nel paese dai balocchi una cosa che è azzardo anche se il corso non ha un prosieguo di questo genere ci sono libri per adulti molto famosi molto presenti quello della prossima settimana è un libro tremendo solo a sfiorarlo a partire dal fatto che è l'unico che ha scritto l'autore che presenteremo ma come ci si può con si può lassiare questa dimensione seguendo lui nel 1920 muore sessantenne ma prima va a fare una cosa stranissima va a trovare d'annunzio a fiume quasi che fosse là che ci sono i giannini le mezzesignorine i grilli che aveva in mente lui non vedrà più nulla sessantenne ha lasciato questo paese sull'orlo di quella terrificante mutamento di cui ho dato lettura verseggiata la sua opera collezione completa del giornalino della domenica voglia di far intendere una cosa sacrosanta non sempre reperibile oggi non si poteva avere cattivo gusto e rivolgersi ai bambini piuttosto non farli i giornali se dovevano essere fatti male da mani inesperte e crescessero pure i debiti del sor benporad che infatti molto presto lo chiuderà il giovane tipografo di ostiglia socialista ma attento agli affari che si chiama Mondadori tenterà di farlo lui lo farà bruttissimo addirittura che la mia collezione completa lo tengo sempre emarginato lontanissimo il giornalino della domenica in fase Mondadoriana e tutti questi richiami tutti questi così severi impeti nei confronti del giolitismo delle bugie dell'avvocato Maralli dei perfidi che dirigono quel collezio come ladri come mascalzoni il borbottone che si chiama come il simpaticissimo poeta bizzarro e matto dell'Aivano di Walter Scott vamba come lui sparirà se ne andrà via siccome ha preso in giro i giovani esploratori da lì non c'è niente da prendere siccome ha trattato i socialisti di bugiardi e di ladri da lì non c'è niente da prendere siccome i liberali li ha trattati ladri e bugiardi non c'è niente da prendere nemmeno lì una cosa che gli sembra opportuno fare è andarsene a 60 anni per sempre con che cosa e questa c'è c'è fortissima la si sente nella sua generazione è in lui è nel giornalino è nelle iscritte barricadiere e segrete che rischiano la galera anche sul bambine di Trieste austriacante ed è Ida Finzi che nel cognome ci indica che di guai ne ha due perché appunto è ebrea ed è triestina e reggerà una confraternita segreta di mezze signorine del giornalino della Domenica altro non possiamo dire è molto malinconica la fine di Vamba però una cosa non possiamo fare è dimenticarlo farlo sparire annurlarlo col toglierlo dalla memoria politica letterario infantile ma anche letterario adulta perché sta benissimo congiunto alla dimensione che gli ho messo accanto prima riscoprirlo ritrovarlo e forse c'è un comandamento che leggevo proprio oggi su una rivista di critica fumettistica che si trova normalmente in edicola e che fa l'elenco tristissimo dei direttori ed elettrici cacciati via perché troppo bravi troppo raffinati troppo intenti a fare un prodotto super e in effetti la comic art non se la passa bene ho avuto come gli appartenenti alla mia generazione tanti straordinari capolavori ho imparato stamattina che si licenziano quelli che li fanno adesso per punirli di averli fatti è una specie di postilla al giornalino di Giannino Stoppani vediamo adesso la parte visiva non poteva essere altro che lui è Vamba che nutre il suo giornalino di inchiostro seduto sui libri e qui è veramente fatto dal grande Scarpelli il riassunto di una dimensione pedagogico poetica politica artistica che se parla molto come tutte le immagini vambiche è anche vero che richiede moltissime parole già anche qui Scarpelli ha messo in evidenza una sorta di separatezza fallimentare in questa dimensione di bambino messo su ad inchiostro col giornalino della domenica sembra che proprio perché è raffinato e sapiente perché è dignitoso e separato non ce la farà qui si potrebbe gridare al politicamente scorretto e c'è di che perbacco perché siamo nel 6 e questa è la caricatura del maledetto giudio che useranno i nazisti che useranno i fascisti che useranno le altre confraternite antiebraiche tanto numerose in Polonia e in Ungheria ma noi dobbiamo far caso alla data la data consentiva di prendere in giro il Sorbemporad che in effetti per vamba era come un fratello e viceversa perché non essendoci state ancora queste vergogne terrificanti della storia del Novecento si poteva fare una cosa che adesso non si potrebbe né si dovrebbe fare cioè mostrare una caricatura con i tratti della bonomia mettere in evidenza qualche cosa cioè che brontolava molto spesso con vamba per i soldi che gli faceva spendere e molto volentieri calava le richieste e le dava meno perché questa terribile caricatura non significa niente nel 1906 ma significherà orrore sangue e vergogna nel 1938 anche questo percorso della caricatura ci ammonisca ci insegni ci dica che si può passare da ridacchiare a pacche sulla spalla come facevano lui e il suo spendazione dipendente però tenendo d'occhio l'orrore che si affaccerà all'orizzonte questa era una delle addette alle rubriche all'interno del giornalino della domenica si chiamava la merciaina perché era davvero una merciaina gli era sembrato giusto chiamarla a tenere una rubrica che ovviamente era densa di saggezza popolana nelle pagine del giornalino della domenica come al solito bravissimo l'autore del disegno che l'ha però inquadrata come se fosse un appartenente alla famiglia dei medici che gli ha dato un risalto aristocratico perché nelle redazioni ce l'aveva e questo è il disegnatore Filiberto Scarpelli vi ho detto prima che ho conosciuto il celeberrimo discendente e è piuttosto strano vedere come un disegnatore di questo valore con una capacità ad un tempo collegata ai grandi maestri francesi della caricatura quelli che tutti copiano tutti tengono presenti perché è così che si deve fare per imparare fino all'oggi naturalmente le mezze signorine e i grilli sono messi in evidenza come la confederazione giornalinesca che con elementi non militareschi ma di carta e di penna lui guida verso i dorati destini auspicati dal giornale domenicale questo non c'era più perché era morto nel 1883 però chiamandosi Collodi è idolatrato nel giornalino della domenica perché è lui l'iniziatore di tutta quella deriva che va avanti per anni per anni che frutterà tanto la Salani quanto la Nerbini quindi i più bei libri per ragazzine e i più bei fumetti del mondo e Carlo Lorenzini è messo tipicamente in evidenza proprio com'era un borbottone toscano che ci aveva rimesso quasi una gamba nella seconda guerra di indipendenza pertanto nella terza non l'avevano voluta e andava in giro a dire questa gli è ritaglia e gli è venuta fuori manco ci avessi rimesso una gamba non la meritava e per nostra fortuna questa dolorosa invettiva contro ciò che era risultato gli ha fruttato non le cronachette spicciole di un giornale politicante ma il capolavoro metaforico del burattino che diventa bambino e lassù c'è il nome perché è Brunelleschi e Brunelleschi è stato un esempio memorabile di come quando vogliamo lavorare bene sappiamo farlo perché è venuto dopo la grande stagione del Liberty linguaggio internazionale che aveva un fondamento nei magazzini Liberty inglesi ma aveva dei fautori invidiabili e straordinari in Russia e in Ungheria Umberto Brunelleschi sarà una delle anime più colte più vivaci più coerenti del giornalino della domenica perché pretenderà sempre di dare ai grilli e alle mezze signorine il meglio di sé e in effetti se si guarda com'è orchestrato quel viso com'è data questa tempera come il raccordo floreale si congiunge a una dimensione fisiognomica che è perfetta si vede bene che non ha dato nulla di meno di quello che dava agli adulti quando si è rivolta ai bambini e questa è una lezione grandissima perché la letteratura per l'infanzia invece prevalentemente non fa così albo di famiglia della dimensione collodiana bisogna guardarlo con uno straordinario rispetto perché tutto quello che si vede in questa situazione in questa deriva anche se molti storici purtroppo l'hanno deriso è qualche cosa che ha a che fare con la parte migliore del nostro andare verso l'unità eroico eroici a curtatone e montanare dove la meglio giovantù per dirla con Pasolini fu sterminata dagli austriaci ingannati ingannati col dare a loro la capitale provvisoria a Firenze lasciando a loro i debiti e trasportandola in fretta a Roma dopo il 20 settembre del 70 derisi anche nelle pretese di essere quello che in realtà erano eredi dei medici eredi di tanti alighieri eredi della più grande stagione mondiale di sapienza il loro cinquecento resta memorabile si rimboccarono le maniche da un lato cominciarono a fare mostre dall'altro a far libri ed ebbero questo gioiello il giornalino della domenica che metteva nell'evidenza migliore che si possa considerare la vocazione toscana per l'insegnamento per l'acquisizione certo di uno status ma meritatissimo perché è elaborato nelle aule anche se all'epoca dei campi di battaglia gli studenti toscani non si erano tirati indietro e questo è complicatissimo provocherà un litigio purtroppo insanabile di un famoso amico famoso scrittore famoso poeta del giornalino della domenica che a causa di questa sequenza se ne andrà per sempre è Giovanni Pascoli era un fedele collaboratore ma a un certo punto padre Ermenegildo Pistelli lo prese così in giro in una memorabile cronaca le sue pistole a Omero Redi e Omero Redi è l'inesistente bambino perché è il prete è lo scoloppio che è Omero Redi il bambino non esiste e l'oggetto della furibonda lite pascoliana fu visita al Pascoli e il ragazzino vede il Pascoli che sta arrivando e dice quello lì è il contadino del Pascoli dice no quello è Pascoli e Pascoli se ne va in giro sporco vestito così ma non si vergogna e si va avanti in questo modo e allora fra i due ci fu incompatibilità Filiberto Scarpelli disegna Omero Redi che non esiste e il suo creatore il padre Scoloppio che invece ha prodotto le pistole senza la E perché ci ricordasse dove ci ricordassimo tutti dove in realtà andava a parare togliendo quella E e fra Bombarda teneva la parte enigmistica infatti siede su una sfinge perché si volevano educare i grilli e le mezze signorine anche con questo importante importante strumento educativo per cultura logico-matematica che era tenuta presente a disegnare non è più Brunelleschi ma è quel Ugo Finozzi che segna in basso ma noi riscontriamo in questa percentuale di art deco di liberty di eleganza formale mitteleuropea una coerenza strepitosa quasi non ottenibile in nessuna redazione ancora filiberto con l'idea che fosse troppo magro e con questa caratteristica che ai tipi come Vamba non piaceva del pittore ad ostranza del bohemian dell'abitatore di soffitte del sequace di Puccini a dire che anche la redazione non stava tranquilla che anche la redazione era un tumulto di idee amici ma capaci di discutere di lottare di pretendere sempre di più ancora filiberto che ci mostra quella che era l'animatrice del settore bambinesco e che è messa in evidenza come se fosse una capitana di evidenti truppe femminili per nulla disarmata per nulla sottratta all'empito guerresco e nazionalista che era quello dichiarato del giornale ha infatti una poderosa siabola da libro di avventure questo è il nostro carissimo amico Andrea Raup che ha voluto fare un Giannino Stoppani oggi è da guardare con attenzione come accettando la lezione di un espressionismo travolto dalla pop art e rinvigorito da tutta una serie di fumetti guardati con amore con diligenza con sapienza abbia la possibilità di dialogare con l'antico giornalino amato ma con la voglia di dargli una effigie diversa un abito nuovo questo invece è lo stesso Vamba che mette in evidenza le birbonate e bisogna intendere che non sono mai da sottovalutare furono invece sottovalutati in molte occasioni questi disegni che ha davvero fatto lui perché l'idea che la domesticità di Giannino Stoppani fosse resa da Vamba con gli strumenti che gli ipotetici Gianni potevano avere davvero per me è pedagogicamente straordinaria e naturalmente è una scommessa da vincere perché messosi nei panni di un ragazzino che disegna questi panni sa portare straordinariamente bene e che vuol dire che ha studiato e si faceva proprio così erano i primordi della Montessori erano i momenti in cui la pedagogia del positivismo italiano cominciava a guardare con estrema attenzione e con molti lumi il disegno infantile come spazio da cui ricavare ineludibili informazioni ancora Rauch con il famoso arrivo dalla Zia con l'episodio celeberrimo del Dittamo e trovo che Andrea abbia agito molto bene nell'idea di congiungere i propri stilemi con quelli di Vamba perché così l'aggiornamento che è sempre da tentare altrimenti fuggendo di fronte all'idea di un rifacimento attualizzante si indebolirebbe la forza di un certo strumento e quindi interessante molto questo esercizio e questo devo dire che mi lascia davvero soddisfatto perché l'idea di metterlo in fuga così è qualche cosa che riassume alcuni momenti dell'espressionismo della pop art del nuovo fumetto italiano degli anni tra il 60 e l'80 e nello stesso tempo rispetta la tragicità del momento e la volontà raffigurativa di Vamba ce l'ha fatta a mio avviso anche qui l'episodio famoso del dittamo dove la sospirosa Zitellona è costretta a prendere atto che le burle di Giannino possono essere strumento di verità e infatti quando dovrebbe punirlo raccontando tutto al babbo gli è solidale gli è complice perché sa che anche lei fa parte della confraternità adulta come si sa fondata sulle bugie perché l'unico che non menta è Giannino e questo è il celeberrimo calcio del babbo che mi sembra particolarmente ben colto da Andrea nel senso che a me sembra che ci sia un fondamento anche di perfidia familistica però non si può eludere all'interno del giornalino e allora è bene che lo si monti proprio così è più cattiva questa immagine di quelle del giornalino però secondo me funziona perché ha questo timbro e ovviamente il Maralli la serata famosa con lo spegnimento tramite pistola ripercorre le alternative non alternative di un morale borghese che viene uccisa dalle complicazioni per una pistola falsa e tutto quello che nel giornalino c'è anche di cupo anche di espressionistico anche di malvagio è giustamente inserito in questa importante tavola come lo è questa che mi sembra adeguatamente riassuntiva ridiamo certo ma quando c'è il saluto al barozzo quando sembrano perché così devono essere li ha voluti così due carbonari due affiliati alla carboneria che vanno chissà dove chissà quando allora si sente anche che ridiamo certo ma non dobbiamo impedirci di sentire anche l'esperienza di una pedagogia che vuole essere sincera attraverso le merciaine e perfino i padri pistelli di contro tanta menzogna che nei salotti buoni domida e impera e questa è la famosa storia della scoperta del socialista che va a sposarsi in una chiesina nascosta per poter avere il voto dei compagni che glielo danno solo se lui è ateo e sono cose che non gli furono perdonate a Vamba ricome la presa in giro di tutto quell'insieme di illusionisti molti dei quali solo giarlatani gli altri illusionisti che c'erano in giro nella dimensione tra la fine della guerra la terza guerra di indipendenza all'inizio della prima guerra mondiale così come il celeberrimo rapporto col nonno e tutto quello che tragicamente ne conseguirà fino all'ingresso in collegio e dato che mangiavano schifosamente oltre ogni dire si plauda pure alla pappa di pomodoro era meno vomitevole delle altre lercitudini che i due avarissimi imbroglioni padroni del collegio davano a questi poveretti nonché lo spiritismo su cui ci sarebbe da lavorare moltissimo perché era uno degli elementi fondanti della strana borghesia di quel periodo che ho indicato poco fa e naturalmente l'ispiratore è sempre Vamba che meriterebbe secondo me qualche piccola riflessione nell'ambito di un espressionismo non conosciuto da lui ma dopo un po' triemfante a partire dalla Germania un po' dovunque che c'è nei suoi interessantissimi disegni così come il ritorno a Andrea è qualificante nel senso che dicevo prima e grazie per la vostra attenzione grazie